Massimo Bitonci, una grande vittoria per la Lega Nord sui costi standard. Di che cosa si tratta? Si tratta di anticipare di un anno quelle che sono le applicazioni dei costi standard nel settore sanitario. È un emendamento che apre a quelle che sono le possibilità in futuro di ridurre in maniera concreta la spesa pubblica, quindi non solamente nel settore della sanità, ma soprattutto in questa grande voragine che è la spesa pubblica nazionale, dove ci sono 800 miliardi di spesa pubblica, di cui ben 200 che è una spesa pubblica che potrebbe essere aggredita. E si può fare in maniera concreta, non con tagli lineari, ma andando a verificare e attuare quello che è un decreto attuativo che ha voluto la Lega e che ha portato avanti ancora dopo il 2009, ma che è stato bloccato purtroppo dal decreto Monti e poi dal governo Letta. In realtà, con questo primo emendamento che viene approvato, riapriamo il campo e l'utilità dell'applicazione e della standardizzazione dei costi nel settore della pubblica amministrazione. Lei in questa legge di stabilità aveva cercato anche di portare il tema del referendum del Veneto, poi bocciato dai senatori veneti. In Commissione io ho presentato questo emendamento che andava a sostituire una spesa anche importante, 10 milioni di euro, che va alla comunità Slovenia Italia, per carità importante, ma penso che dar la possibilità al popolo veneto che ha propria cultura, storia e tradizione di autodeterminarsi, per un movimento come il nostro, come la Liga Veneta, la Lega Nord, che è un movimento autonomista, indipendentista, che vuole portare avanti con forza questi tipi di tematiche, sia un passo molto negativo, soprattutto perché io in Commissione ho chiesto che il mio emendamento venga firmato da tutti i veneti presenti in Commissione. Consideriamo che rappresenta Santini del PD e Baretta, Santini di Marostica, Baretta e Veneziano, sono veneti, veneti come il sottoscritto e come altri componenti anche del PDL in Commissione. Alla fine, oltre a non aver sottoscritto il mio emendamento, il relatore Santini e il sottosegretario Baretta hanno dato pure parere contrario. Era coperto, perché è un emendamento coperto, era ammissibile, quindi poteva tranquillamente essere votato e a parte la Lega Nord, gli altri movimenti non hanno voluto votare questo importante emendamento che ricordiamo dà la possibilità al Veneto e ai Veneti di poter votare un referendum sull'indipendenza e l'autodeterminazione del popolo veneto.